Siamo molto soddisfatti di questo obiettivo che abbiamo voluto fortemente. Per questo voglio ringraziare in primis tutti gli amministratori che hanno creduto in questo progetto. Siamo anche contenti di essere i primi, spero e mi auguro che anche altri unici serviranno questo tipo di finanziamento. Sono contenti. Abbiamo alla cittadinanza uno spazio dove possono venire qui a godersi il tempo libero, di mettersi in forma. Noi come amministrazione siamo un'amministrazione giovane e vogliamo continuare sul fatto di stare vicino ai cittadini. Il parco è libero, l'abbiamo messo a piacente alla villa comunale, quindi anche le famiglie, i bambini piccoli possono giocare sui giochi, possono loro svagarsi alle altre. Il parco è aperto, è accessibile a tutti e anche prossimo alla scuola, alla nostra scuola elementare, quindi diciamo che può essere utilizzato la mattina dalla scuola e il pomeriggio dalle famiglie, dalla collettività. Per questo ringrazio tutti i responsabili di Sport e Salute, Molise. Ci hanno servito da subito dopo il bando, ci hanno servito nei vari step amministrativi per poter oggi consegnare alla collettività di Sesto Campano questo spazio per il benessere. Grazie a tutti.